Siamo Mia, Emma, Lucy e Sophie! E viaggiamo intorno a tutto il mondo! Siamo le Trottis Trottis! Trottis Trottis I Provis! Fate attenzione Trottis! In questa giungla ci sono animali nascosti! Ecco un'impronta! Che paura hai, Chapelle? Emily, andiamo! L'autobus sta per partire per la gita! Sei pronta? Sì, papà, sono pronta! Per favore, per favore, qualcuno mi tolga di dosso questa cosa appiccicosa! Sono il cabaleon di Sophie! Oh, ma quanto è grande questa città? Non è una città, è l'Amazzonia, che è circondata dalla foresta pluviale! Sai, la foresta amazzonica attraversa nove paesi in Sud America! Nove paesi? Oh! Oh, ma quello è un tucano! Che strano! Di solito sono molto giocosi, ma lui non sembra molto felice che gli sarà successo! C'è solo una cosa da fare, andare in Amazzonia e vedere cosa succede! Ripetete dopo di me? Comunque, tu e dovunque sarà, Pinky Promise ci guiderà! Oh no, ho dimenticato la frutta per darmi energia! Ecco, Emma, una guava! Un frutto tropicale dell'Amazzonia, ha molte vitamine e dà molta energia! E' vero, la guava dà all'adov'energi! Ed ecco il tucano dal becco arcobaleno! Ciao, tucano dal becco arcobaleno! Mia, per favore, dici cosa sta succedendo! Sai che non possiamo parlare con gli animali come fai tu! Ah, sì, sì, scusate! Il nostro amico è rimasto senza casa! Alcuni uomini con l'ascia hanno abbattuto l'albero dove viveva, oltre a molti altri! Il tucano dice che era tranquillo nella sua casetta e ciocche! Addio all'albero e addio alla casa! Hanno tagliato il tronco in tanti piccoli pezzi per portarli via con il camion! Non è giusto! I don't understand! Dove si trova il folletto protettore dell'Amazzonia? E' strano che non sia già qui! Aspettate un attimo! A cosa serve il cerca magia? Oh, che carino! Possiamo portarlo a casa, per favore! No, Sofì! È l'elfo protettore dell'Amazzonia! Ciao, elfo protettore! Per fortuna ti abbiamo trovato! Oh, grazie mille per avermi tirato fuori da qui! Mentre dormivo nella bolla magica che protegge l'Amazzonia, degli uomini con l'ascia sono entrati e mi hanno chiuso qui dentro! Hanno iniziato a tagliare un sacco di alberi! Se continuano così, l'intero mondo è in pericolo! Questa giungla è molto importante per tutti! Soprattutto per gli animali che vivono qui! Vi aiuteremo noi? Siamo le trottis, non è vero ragazze? Sì! Sì, ti farò una casa bellissima, vedrai! Ma dammi la matita! Aspettate un attimo! C'è una cosa molto importante! La bolla magica di protezione! Devo indossarla prima che gli uomini con l'ascia ritornino! Ho bisogno di tempo per ricaricare la mia magia! Non ho abbastanza energia in questo momento! Sì, ti capisco, elfo! A volte mi succede la stessa cosa, ma possiamo aiutarti anche con questo! Riprendiamo da dove ci siamo fermate! Sofì, questo camaleonte si è affezionato a te! Vedo che ti trovi molto bene con gli animali della giungla! Siamo le trottis! Trottis, trottis! Trottis, trottis! Pinky Promise!